buongiorno ragazzi bentrovati su food18italia come sempre sono lucio siamo qui oggi per fare un breve video su un riepilogo sugli investimenti fatti nelle ultime settimane soprattutto per quanto riguarda le carte if dai team di week settimanali oltretutto per accennare gli incontri principali che verranno vale a dire gli incontri principali non della settimana di 3 aprile bensì quella dopo il 10 aprile perché questo perché ultimamente a causa di tanti youtuber a causa di maggiore informazione da parte degli utenti di fifa i prezzi cominciano a salire già una settimana prima per cui anticipare di 10 giorni significa prenderli al prezzo minimo possibile i giocatori che non interessano allora partiamo dall'inizio mettete un like al video se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale youtube mi raccomando e seguiteci su facebook perché pubblichiamo un sacco di notizie news e tutto quello che c'è da sapere sulla compravendita allora partiamo con gli investimenti del team of the week numero 26 ben tre settimane fa vi ricordate parlammo di screener screener era una carta che si acquistava durante il periodo che si trovano i pacchetti e 14 15 mila e adesso il suo prezzo è a 19 mila qualche giorno potrebbe arrivare anche a 20 mila mandandà prezzo consigliato di acquisto era intorno ai 28 29 mila crediti chiaro tardi anche 30 mila crediti guardate un po ne ho venduti ieri tra 36 e 37 mila andiamo avanti check in molti dubitavano del nostro investimento su check e togliendo il primo che probabilmente sarà già non disponibile sul mercato il prezzo è passato dai 43 mila ai 53 mila 10 mila crediti di rialzo in appena tre settimane altri investimenti erano rodrigo che è passato da 20 a 30 mila in un lampo perché in molti lo utilizzano per la weekend league e playa che è quello che purtroppo è salito di meno salito di meno perché magari caratteristiche non sono così appetibili comunque sia non abbiamo fatto una perdita abbiamo fatto un guadagno ma minimo da 13 mila a 16 mila crediti passiamo al team of the week successivo che è il team of the week numero 27 ancora non dovete vendere queste carte perché è troppo presto però possiamo già vedere come i prezzi si stanno lentamente rialzando martinez sta tornando ai 30 mila crediti ilicic ha superato i 27 mila albioli 28 mila dove si comprava 24 poi award 12 mila e si trovava a 15 17 tomkins tutti i giocatori che abbiamo consigliato l'investimento muslera da 18 a 22 che piano piano si stanno rialzando per chi ci ha seguito su facebook abbiamo parlato anche di kelly perché è una carta if argento inglese quindi è facilmente ibridabile si pagava 7.500 e già costa 10 mila crediti per quanto riguarda invece gli incontri principali di settimana prossima a noi piace o meglio tra due settimane a noi piacerebbe puntare su un paio di squadre in particolari alcune partite allora questa settimana noi molto probabilmente la settimana del 3 aprile non uscirà una partita di bundesliga noi confidiamo vista la mancata sfida borussia dortmund e bayern monaco di settimana scorsa in una partita di bundesliga vale a dire potrebbe essere borussia dortmund contro schalke quindi se avete fatto investimenti settimana scorsa su borussia dortmund potrete tenerli perché potrebbero essere molto utili per la settimana prossima e acquistiamo qualcosa dallo schalke 04 adesso andiamo a vedere i prezzi di mercato i prezzi di vendita e chi ha quanto comprare allora per quanto riguarda borussia dortmund concentratevi su carte oro qualsiasi prezzo minimo possibile e vediamo se troviamo qualche carta oro rara a prezzo quasi di scarto c'era un sign che mi sono perso adesso torniamo indietro quindi philip intorno ai 500 550 crediti e sign intorno e 700 750 bene andiamo a vedere il prezzo delle carte dello schalke che probabilmente potrebbe essere leggermente più basso lo schalke e in effetti troviamo già piazza e baba stamboli vediamo 400 crediti una qualcosa ottimo 400 crediti comprate adesso tutto a 400 crediti perché il prezzo minimo di scarto si rivendono anche a 450 per cui non abbiamo alcun rischio di investimento perché il prezzo proprio prezzo di scarto anzi guadagniamo a priori perché lo vendiamo comunque sia a quel prezzo lì se non a 450 e vediamo se troviamo anche qualche buon ruolo tipo un difensorino un difensore sarebbe ottimo intanto possiamo prendere anche un burgstaller perché ha overall più alto 78 un terzino eccolo qua ce lo prendiamo bene investimenti per schalke e borussia fatti altri investimenti per gli incontri principali di 10 aprile sono per due partite molto importanti e molto belle la prima in serie a è il derby tra roma lazio quindi andiamo a vedere il prezzo delle carte compra ora oro della lazio non troviamo nulla 450 a 500 nemmeno vediamo se troviamo qualcosa sotto i 600 ok qui già cominciamo a trovare qualcosa proviamo a scendere a 550 550 ci compriamo bastos ci compriamo wallace e se ci va bene anche un lucas leiva no immaginavo scappasse via ok proviamo a vedere se troviamo un leiva sui 600 crediti qui solo wallace e bastos questo è quello di prima qui ce n'è un altro preso a 600 prendiamoci anche un lulic benissimo queste sono le carte su cui investire quindi carte a prezzo basso se riuscite a fare un po di sniping anche a 500 crediti o qualche offerta in turno ai 450 vediamo la roma cosa troviamo 500 crediti nulla 550 c'è uno skorupski ce lo prendiamo ma non ci basta uno skorupski andiamo avanti a 600 crediti solo skorupski a questo punto andiamo a vedere le carte oro rare oro rare vediamo se scappa fuori qualcosa c'è qui un defrel 750 ce lo prendiamo anche se l'overroll non è altissimo ecco ottimo perotti perotti è un ottimo giocatore perché ha un overall di 80 punti ed è una carta che costa poco quindi investimento scusate investimento 0 perché c'è rischio 0 perché comunque sia il prezzo è bassissimo quasi vicino allo scarto ci compriamo anche un difensorino silva che non so nemmeno chi sia e un altro perotti questo qua 700 e essendo raro con overall 80 potrebbe essere più utile per le sfide rispetto magari a una carta non rara benissimo l'ultimo match di cui vogliamo parlare è del campionato portoghese ed è benfica porto quindi liga nos benfica vediamo di trovare qualcosa prezzo prezzo bassissimo ottimo qui si trovano carte anche a 400 crediti allora acquistiamo questo crovinovic vediamo se c'è altro c'è un gimenez che è un buon giocatore perché è overall 80 c'è un portiere bruno varela troviamo altro no allora ci prendiamo un altro gimenez e lo mettiamo in lista passiamo ora a il porto cosa troviamo a 400 crediti del porto nulla vediamo 450 troviamo qualcosa ci accapariamo questo no è scaduto reyes facciamo in tempo si l'abbiamo preso vediamo se troviamo qualcosa 500 crediti no se state fortunati a trovarli a 400 ok pare che sotto i 600 non si trovi nulla in effetti non si trova nulla vediamo al limite di cercare qualche carta oro rara 750 nulla il nulla quindi abbiamo avuto proprio una botta di fortuna trovare qui 2 400 ok troviamo marega che è un buon overall raro andrei andrei direi di non prenderlo puntiamo questo punto su carte con oro rare benissimo oliver torres ok e mi fermerai qua vi dico che volendo potreste anche investire su carte argento di psv endoven e ajax perché una bellissima partita che uscirà probabilmente per il 10 di aprile detto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like al video commentate se avete bisogno di chiarimenti seguiteci su facebook e iscrivetevi al nostro gruppo ufficiale in descrizione trovate tutti i link utili per quanto riguarda il nostro sito web pagina e quant'altro grazie per aver visto il video per avermi ascoltato alla prossima un saluto da lucio e buona pasqua ciao